Il Pizzatale Show 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 Brava Eccola Allora inforniamo questa pizza Ah il resto lo mettiamo dopo probabilmente Cioè manca soltanto Il melograno e il zenzero Ci mettiamo il melograno Questo è lo zenzero Sì zenzero fresco Che viene dal Marocco Che gli facciamo fare a papà? Bulaob Eh? I figli sono bastanti Prima di questo perché La vedo bravissima Secondo me tu sei anche brava nel fare Guarda Dammi la mano Perfetto Dammi la mano papà Ok Siamo pronti Attenzione Vai Vedo il comando Vai Dall'altro brava Sì Londa vai Brava Brava Leila Ciao ragazzi In bocca al lupo Grazie Grazie